Ti vuoi davvero sposare? Io amo Caio. Perché non dovrei volerlo? Tesoro, cosa c'è di più rischioso e pericoloso che condividere la tua vita con qualcuno? Siamo sicuramente diverse. Ragazze, è Caio. È il punto di farlo. Lo sei sicuro? Caio conosci. Guarda le cose. Babi! 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 Forza! Ora basta, devi reagire. Lavati la faccia e vieni con me. Devi essere la nuova iscritta, giusto? Ciao, Patti. Ehi, ciao! Ho parlato con quel giudice, il giudice sexy del giorno dell'udienza. Ho scoperto che vive in un paradosso. È ossessionato dalla verità ed è misterioso allo stesso tempo. Avevo paura che non venissi. E io avevo paura di venire. Babi. Che hai? Non fai altro che dire che hai una vita complicata. cosa c'è di così complicato che non puoi raccontare. Cosa c'è di così complicato che non puoi raccontare? Grazie a tutti.